Buongiorno a tutti amici, come state? Spero bene. E allora ragazzi, come sicuramente leggerete dal titolo, oggi parleremo appunto di alcune news per quanto riguarda appunto Peppe Guardiola, ma non solo, perché voglio appunto soffermare anche sui giornali, su quello che sta facendo sui giornali e soprattutto sui dg sportivi e da quello che si sente appunto anche nelle ultime ore. Allora ragazzi, per quanto riguarda Peppe Guardiola, faccio una piccola parentesi, sicuramente avrete già sentito forse questi audio che stanno girando appunto su Whatsapp, dove addirittura questo giornalista, non si sa chi sia, parla appunto ad un suo amico, gli invia degli audio e gli dice che è tutto fatto, che Guardiola sarà il prossimo allenatore della Juventus, che per un contratto appunto 24.000 in una stagione, quello che sapete, addirittura abbia già fatto dei nomi per quanto riguarda il calcio mercato per l'anno prossimo. Ovviamente lui in questo audio si sente che vorrebbe addirittura un difensore, un attaccante e ovviamente vorrebbe fare cassa, cercando di vendere alcuni giocatori, primo su tutti appunto e di svecchiare la rosa e quindi mandare via Mandzukic e Kedira, che è appena la stessa cosa che penso anch'io perché sono appunto i giocatori che a mio avviso ormai sono ormai al termine della carriera, quindi secondo me la Juventus dovrebbe puntare su altri giocatori, su profili giovani. Addirittura si parla che vorrebbe in difesa un grandissimo difensore che addirittura lo voleva anche lo United, stiamo parlando di Khalidouk Koulibaly, giocatore appunto del Napoli, anche se difficilmente a mio avviso lascerà i partenopei, la città partenopea. Un altro nome su cui ha fatto è stato appunto Pogba, quindi cercare di fare uno sforzo economico per puntare a Pogba, visto che piace a Pepe Guardiola già da tempo, e ovviamente di puntare appunto su un attaccante che dovrebbe essere Icardi, Mauro Icardi. È una scelta che io non condivido, anche se, ripeto, su questi auto dobbiamo farci poco affidamento, perché secondo me potrà essere vero, però magari su questo calciomercato io difficilmente credo che la Juventus possa puntare su un giocatore come Icardi e quant'altro, anzi secondo me sarà destinato a una squadra appunto spagnola come l'Atletico. Quindi a mio avviso, magari sul mercato avrei qualche dubbio. Poi per quanto riguarda il tema principale di questo video saranno appunto i TG Sportivi e i giornali. Ragazzi, io ieri sera ho sentito di tutto nei TG Sportivi e a mio modo di vedere non sanno più, ripeto, cosa scrivere. Addirittura stamattina nei giornali danno Sarri alla Juventus, almeno quasi fatto, che c'è la sicurezza dell'80% che possa arrivare Sarri l'anno prossimo alla Juventus. Molti smentiscono dicendo che Sarri forse avrà un'altra possibilità al Chelsea, altri invece dicono che lascerà sicuramente il Chelsea perché ci sarà appunto Frankie Lampard sulla panchina del Chelsea e quindi potrà tornare Sarri in Italia precisamente alla Juventus. Però, a patto che si scusi con i tifosi, visto il gesto che è stato fatto in Juventus-Napoli l'ultimo aprile scorso, nel 2018. Poi, per quanto riguarda i TG Sportivi, quelli che a me non stanno piacendo più di tanto e che magari smetterò anche di seguire, sono il canale 60, il nostro digitale del resto, ovvero Sport Italia, dove appunto Pedullà, sicuramente lo conoscerete un po' tutti, Pedullà, ragazzi, da un anno non ne sta azzeccando una, non fanno altro che dire le stesse identiche cose. Ragazzi, dicevano addirittura che Allegri sarebbe rimasto, tutti gli altri dicevano che Allegri avrebbe fatto male ad andarsene, che la Juventus avrebbe fatto male a cacciare via Allegri, quindi che doveva rimanere e alla fine se n'è andato. L'anno scorso, per quanto riguarda Ronaldo, dicevano la stessa cosa, Ronaldo era una cretinata, un impossibile, tutte queste cose, e alla fine Ronaldo è arrivato. Addirittura ieri sera continuavano a dire che Sarri è molto favorito appunto alla Juventus, addirittura ne ho parlato anche di Inzaghi, di Spiragli come Inzaghi e quant'altro, quindi secondo me, ripeto, stanno dicendo soltanto un pugno di fesseria. Addirittura ieri sera, anche nel TG Sportivo della Rai, ancora si parlava, uno scambio tra Dybala e Icardi, ma ormai sappiamo che ieri Dybala, proprio vicino alla sede dell'Inter, quindi a Milano, dove è stato sponsor dell'Adidas e tutto, ha appena annunciato che vuole rimanere alla Juventus, e farò un video dedicato a questo, farò un video a parte, ma ancora sono sicuri che di questo scambio Dybala-Icardi, ragazzi, non ci sarà questo scambio, anche perché Paratici e anche lui stesso, anche Dybala, se se ne vuole andare dalla Juventus, andrà all'estero, non rimarrà in Italia, questo è poco, ma sicuro. Quindi, io sono sicuro di quello che dico, difficilmente vedrei appunto un Dybala all'Inter, sia per rispetto, che lui già ha detto, per rispetto di questi tifosi per questa maglia, non andrei mai a un rivale come l'Inter. Quindi, cari ragazzi, è inutile, non ascoltate questi TG sportivi, io sono sicuro che arriverà Pepe Guardiola, perché la Juventus, essendo una società con la S maiuscola, è impossibile che prima di esonerare un allenatore, non abbia già pensato a un sostituto, quindi, secondo me, tutte le voci che sono state in passato su Pepe Guardiola, ora, sono vere, e già molti giornalisti juventini, come lo stesso Luca Monblano, stanno ribadendo e dicendo più volte. Quindi, è inutile che dite Sarri alla Juventus, secondo me Sarri non andrà alla Juve, secondo me potrà tornare addirittura in Italia, ma non si sa dove addirittura si pensa che Gasperini, gli dicevano che Gasperini è promesso sposo alla Roma, potrà essere anche vero, però, a mio modo di vedere, Gasperini fa male ad andare a una squadra come la Roma, perché se tu, mettiamo caso, dovessi arrivare in Champions, tu andresti in una squadra che farà l'Europa League e un altro allenatore godrà della Champions che tu stesso hai conquistato, quindi, ragazzi, secondo me molti stanno cercando di scrivere qualcosa sul giornale, magari di raccontare alcune cretinate, proprio per questo motivo. Ventre le news sicure sono appunto Poggettino, che a quanto ho capito dovrebbe rimanere al Tottenham, oppure andare al Manchester City, quando dovrebbe arrivare alla Juventus, perché ieri ha smentito che alla Juventus comunque in Italia non andrà. Quindi, ormai, Mourinho si taglia fuori, Conte fuori, Poggettino fuori, gli unici due sono appunto Sarri, Inzaghi e Pep Guardiola. Inzaghi sicuramente forse andrà al Milan, forse, vedremo, quindi Sarri secondo me, non so, ma difficilmente lo vedrò alla Juventus. L'unica cosa che è certa è che Pep Guardiola, a quanto si dice appunto negli audio, è che vorrebbe rivalorizzare Pjanic, che guarda caso è la stessa cosa che ieri hanno detto di Sarri, perché Sarri, poiché è vicino alla Juventus, dicono che vorrà rivalorizzare di nuovo Pjanic e Dybala. Guarda caso le stesse parole che vuole Guardiola. Quindi, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non volete perdervi alcune news per quanto riguarda il mondo della Juventus e del calcio in generale. Ovviamente, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram se volete, ChrisCubi, trattino basso, 7, e mi raccomando, fino alla fine, Forza Juventus! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.